segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te l'estate no ma non è non era il dramma però insomma tutti si appassionano di lucaco si parva lì certo noi ci possiamo anche appassionare di rosato di bellanoma eccetera lo dico per te lo dico per te appassionati di lucaco che è meglio ma io non amo il calcio dopodiché però la questione è molto più prosaica 60 il progetto delle perversioni certo borgo no ha ragione quando dice